Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di TheFanBoys, io sono Andrea Corazza, oggi raccogliamo l'olive, mi raccomando lasciate un like a questo video, godetevi il video, io tornerò alla fine del video e poi dopo magari scrivetemi anche un commento, dai, ciao raga! Ciao! 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 Allora ragazzi, il video è finito, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e lasciate un bel commento, che mi dite cosa potrei migliorare nei miei video, ciao raga! Ciao!